Esercitazione dei vigi del fuoco questa mattina a Sarno. Sono stati impiegati i reparti speciali alpino-fluviali, soccorritori acquatici e soccorritori di superficie, combattelli nautici. Sono stati inoltre allestiti un posto di comando avanzato con la sala operativa mobile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno e un campo base nell'area mercatale di Sarno, dove sono state simulate delle frane simili all'evento che si è verificato nel lontano 1998. Qui sono stati presenti i reparti addetti alla logistica pesante che preparano i campi base per ospitare i soccorritori e in sei ore riescono ad ospitare 300 soccorritori per portare soccorso alla popolazione. Un'altra fase saliente dell'esercitazione nazionale di stamane è stata per testare la sinergia fra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e le organizzazioni comunali e protezione civile territoriale. Nello specifico per l'allestimento del campo base di Sarno, la protezione civile comunale ha allestito una cucina da campo e una tenda da campo per fornire un pasto caldo ai soccorritori provenienti dalle altre regioni d'Italia. Durante le emergenze si mettono in campo tutte le potenzialità territoriali e nazionali per fornire un servizio veloce, efficiente e professionale alle popolazioni colpite.